Dinosauri Life è una delle novità della 47esima campionaria nazionale di novembre. Si tratta di una mostra di 25 riproduzioni di dinosauri in scala naturale e 150 piccoli modelli. Le fedeli riproduzioni di dinosauri vanno dalla più grande, di quasi 10 metri d'altezza, alla più piccola che raggiunge 2 metri. La mostra costituisce una vera e propria attrazione per bambini, genitori e scolaresche. Abbiamo studiato 3 anni per mettere su un progetto leggero perché abbiamo capito che c'è un target formato da bambini dai 5 ai 13 anni che ama moltissimo questa scienza, è una scienza, lo studio del dinosaurio è una scienza. Con i film Jurassic Park il fenomeno del dinosaurio si è sviluppato nel mondo. La cosa più bella è che da questi scheletri, paleontologi, illustratori, scultori, tirano su queste forme che affascinano poi i ragazzini, ma anche gli adulti, io mi ritengo un adulto e mi piacciono molto. Ecco, 3 anni fa ci siamo inventati questa mostra, questa mostra che la porteremo in giro per l'Italia. Soddisfatta a proposito della Dinosauro Life, il presidente delle fiere MAIA Giovanni Denaro. Fa parte di alcune novità che anno dopo anno inseriamo nel palinzesto della novembrina della fiera campionaria. Quest'anno è toccata ai dinosauri, il prossimo anno troveremo altre chiavi di lettura da un punto di vista scientifico, didattico e anche di divertimento perché veramente trovarsi dietro davanti a queste strutture, i bambini sentiamo già anche le grida di gioia, diciamo, sono stupiti da questi grandi esemplari che vedono solo nei cartoni animati e vedono solo in tv. Noi diamo la possibilità di visitare, di prendere contatto più che altro con la storia nostra, diciamo, dell'evoluzione della specie animale e questa è una, ritengo, una novità importante per fiere MAIA.